Ha definito questi anni di berlusconismo come i principali responsabili della riduzione della politica in fogna, ha usato quindi non mezzi termini. Come si esce dalla paluda e qual è la prima mossa? Ma io ho usato quel termine in realtà riferendomi al giro di dossier che evidentemente sono circolate in quest'estate e che ci dicono che effettivamente un deterioramento della situazione politica può portare veramente ad avvilire la discussione politica, a portarla nel sottoscala di questa Repubblica. Questo è l'esito di una fase, di una fase che è durata tanti anni e che adesso è ora di ribaltare perché credo che questa fase non ci abbia portato a niente. Adesso facendo il riassunto noi dobbiamo dire che noi non stiamo meglio da nessun lato, ecco, e tanto meno dal lato è lo spirito civico, la tenuta democratica e non solo quella economica e sociale. E quindi credo adesso che venga il proscenio, come abbiamo discusso qui, una nuova fase, cioè quella nella quale dobbiamo vedere se siamo capaci di rinvertire la tendenza, di evitare che la situazione degenera e dare invece una spinta positiva, un'alternativa. Questo è il tema di oggi e dei prossimi mesi e su questo dobbiamo impegnarci tutti. Qualcuno si chiede, governo tecnico oppure elezioni anticipate? Noi siamo perché la centrodestra certifichi la sua crisi in Parlamento, ne prende atto perché è inutile girarci attorno, le acque, ho detto, del Lago Maggiore non sono state miracolose come si è visto. E quindi che la parola passi al Capo dello Stato e al Parlamento, noi abbiamo dato una disponibilità per un governo breve, un governo di transizione, che possa mettere in mano alcune emergenze, cominciando una legge elettorale che va corretta perché consente a una persona sola di nominarsi tutti i suoi deputati, dopodiché si può andare a votare. Attualmente questa è la nostra proposta, se le cose fossero trascinate a un punto, mi si chiede spesso anche questo, di arrivare alle elezioni, sia chiaro che noi non abbiamo paura alle elezioni, assolutamente. Ma se si arriva lì, le elezioni anticipate devono avere un nome e un cognome, Berlusconi e la sua crisi, un padre e una madre, Berlusconi e la sua crisi. Ha fatto tutto lui, si ha portato fin lì e questo non deve avere sconti. Quindi noi non chiediamo niente, non abbiamo paura, ecco, ma non chiediamo niente. La ringrazio, l'ultima domanda, i giovani si stanno allontanando dalla politica, come riportarli all'interesse della politica? Qualcuno pensi che quando lei ha vinto le primarie l'ha scambiata per il cantante Samuele Bersani e invece non è così. Come si ricollocano i giovani nella politica? Può anche darsi, ma mi piace moltissimo, sono Bersani, quindi trovo che sia di primordine, di serie A, quindi se qualcuno si è sbagliato mi ha fatto un complimento. Ma io penso che il problema c'è, assolutamente. Bisogna raffigurare una politica che si occupi dei problemi, punto e basta, cioè che si occupi della vita della gente. Certamente finché i giovani assistono a questi teatrini, come abbiamo sentito in questi mesi, non hanno ragione francamente di avvicinarsi alla politica. Quindi io però mi auguro che noi riusciamo a fare in modo che la politica prendi il colore, le forme e anche le parole che incrociano la vita comune della gente. A cominciare dai giovani, abbiamo il 28% di disoccupazione giovanile in questo paese qua, quindi credo che se partiamo da lì forse qualche giovane si accorgerà che senza la politica i problemi non si risolvono. Grazie, segretario Bersani.